Salve, sono Pierandrea Petazzi in Arte NeonBug e vi do il benvenuto o il bentornati sul mio canale. In questo video, come potrete intuire dal titolo, andrò a parlare di come realizzare dei suoni tipo il classico Super So e Zimilia con Vital. La cosa vi sorprenderà perché almeno penso che i più smaliziati tra voi vi diranno si va bene adesso cosa ci metterai, ci metterai 30 secondi di video per spiegarmi sta cosa, cosa farai per il resto? Ecco, penetrarò in maniera un minimo più storica e un po' più estesa, mi scuso con i più esperti e smaliziati perché questo video tratterà questioni piuttosto base. Allora, l'idea di trattirare fuori da un synth qualcosa che suoni meno solo e isolato di un oscillatore per i fatti suoi è vecchia almeno quanto la sintesi stessa direi. Allora, già se andiamo a guardare tipo il timbro di impressione di settembre, discusso su n forum e altre n cose di ormai tanti anni fa, abbiamo qualcosa che era realizzato con un minimoog, tre oscillatori messi tutti a denti di sega, uno un'ottava sopra, sotto scusate, e gli altri due un po' scordati, uno rispetto all'altro. E aumentando questo detune, rendendolo più importante, si ottiene, oltre al fatto di aumentare normalmente il volume e andare qui in rosso, ma per fortuna il sistema di... la gestione del segnale di Vital fa sì che non si clipa finché non si va a più 6 dB, e questo ci dà un margine di sicurezza maggiore, e già questo ci dà questa possibilità. In strumenti successivi, strumenti sintetizzatori polifonici, c'era c'è stato introdotto la possibilità di avere un unisono, ovvero, cosa che non posso fare in Vital, avere e prendere l'intero sintetizzatore e crearne più copie, non crearne necessariamente se aveste avuto, non lo so, un Prophet 5, potevate prendere, dicino, guarda, suonami, usami tutte e cinque le voci per suonare una sola nota, magari un po' scordate l'una verso rispetto all'altra, tirate un suono grosso, e lo potete fare con qualsiasi voix che venga in mente, un NordLead, un Ion, un MicroKorg, insomma, il mondo di sintetizzatori che diano queste feature è sterminato. Anche diversi plugin tuttora supportano l'unison in questa maniera. Un'altra cosa che ha, diciamo, che potrebbe ingannarvi, ma non più di tanto, circa ad ottenere queste cose, che è stata fatta in tanti modi in passato, è banalmente appoggiarsi sugli effetti, perché se io introduco un chorus, magari mettiamo un chorus un po' più timido, piuttosto che queste 16 voci, e ci mettiamo un pochino di riverbero, un pochino, non così tanto riverbero, magari anche un pochino meno chorus, già questo singolo oscillatore, questo singolo dente di sega, comincia ad avere una presenza più importante, lavorando sul chorus, rendendolo più drammatico, aumentandone il mix, già l'effetto diventa ancora più importante, ma ovviamente queste sono, in un certo senso, piccoli, piccoli stratagemmi, che, quanto funzionino, non vanno a creare il tipo di effetto che stavamo cercando. Uno strumento di questo genere, come del resto buona parte dei plugin moderni, vi offre una soluzione, diciamo, relativamente immediata, che è, appunto, lavorare sull'unisono dei singoli oscillatori. Se io prendo questo singolo oscillatore, lo porto, tipo, non lo so, a nove voci, mi pare fossero nove le copie del lente di sega che venivano create nella Super So del JP8000, il primo synth a, diciamo, rispondere in maniera esplicita a questa esigenza di mercato, suppongo che questo, se le vedo, siano circa distribuite in maniera lineare, è già... e ho già qualcosa con caratteristiche di quel genere. Posso aumentare l'unisono, posso decidere che voglio regolare diversamente il modo, aumentarlo, diminuirlo, posso decidere che la distanza, cioè il modo, la densità, se ne siano di più al centro e meno all'esterno, andando a replicare un comportamento più vicino a quello della Hyper So del virus, piuttosto che alla Super So del JP8000. Insomma, tutte possibilità. Potrei anche andare qui, andando nel menu dell'unisono, a controllare con lo Unison Blend quanto siano, come si mescolino le copie più centrali dell'oscillatore con quelle più scordate. E potrei anche decidere, se voglio, se ho delle esigenze di carattere storico, per le quali, in realtà, questo unisono stereofonicamente aperto non mi piace, di prendere e abbassarmi l'unisono stereo e mettermi tutto in mono, e il che, come sentite, suona decisamente diverso. Ora, questo, finché lavoriamo con un solo oscillatore, se vogliamo, potremmo usarne due, e andare a mettere questo, lo rimettiamo al centro, anzi no, userò il 3, perché ce l'ho già messo un'ottava sotto, e se do, per dire, un po' di unisono anche a lui, magari gli riduco un pochino il detune, magari facciamo che abbassi i volumi a entrambi, così che il, soprattutto a questo, così che il mio, la mia, il mio indicatore di volume sia meno infelice, e questo gli ha dato un po' più di corpo nelle basse, questo potrei andare a decidere, appunto, questo, per esempio, di ridurre l'apertura stereofonica di questo, perché, soprattutto, se vado a suonare in basso, potrei essere interessato a che sia meno aperto stereofonicamente. Ora, un, non dico che sia un gran trucco, però, dal momento che queste cose derivano dal fatto che buona parte di questi strumenti potevano, sì, replicare, crearmi più copie di un oscillatore, ma l'unico oscillatore di cui potevano creare più copie era, appunto, un dente di sega. Oggi non siamo più limitati così, men che mai con uno strumento del genere, quindi, sfruttando un minimo di logica e conoscendo il comportamento delle armoniche, potremmo trasformare quello che teniamo più in basso in un'onda quadra. Questo perché questa, essendo un'ottava più in basso, avrà una frequenza base che è la metà di questa. Essendo la frequenza base la metà, avremo le armoniche, saranno più strette, e saranno più ravvicinate, saranno a una distanza pari a quella frequenza, invece che, cioè, saranno multipli di quella frequenza che è più bassa e non multipli di quell'altra che è esattamente il doppio. Quindi, in questo caso, dato che però questo ci dà solo le armoniche dispari, avremo che questa onda quadra e questo dente di sega non hanno alcuna armonica in comune. Però, e in questa maniera, però abbiamo che il risultato è un dente di, è come se avessi ascoltassimo un dente di sega accordato con questo pitch, con il pitch della più bassa, ma, in questo caso, con dei detune diversi e delle aperture stereofoniche diverse. Il risultato... Secondo me è sensibilmente più definito e forte, cioè, nel senso, rispetto a un dente di sega che si incontra con degli altri denti di sega. Questo, secondo me, suona già decisamente meglio. Potremmo prendere poi questa roba qui, ovviamente, andare a filtrarla in modo che ci dia qualche soddisfazione. Ecco, dovremmo mandargli anche l'oscillatore 3, sennò quello suona libero e felice, andando direttamente agli effetti che non ci sono. E magari prendere e andarselo a controllare con un inviluppo di nostro gradimento per fare il timbro che più ci piace. Io pensavo qui di fare qualcosa di questo genere o, volendo, potete tramutarlo in un grosso pluck. Insomma, regolatevelo un po' come più vi aggrada e le possibilità sono tantissime. Un po' di dissonanza gli aggiunge altro colore. E potete scegliervi un modello di filtro diverso, che vi aggrada di più. Ora, fin qui, non vi dico che siamo nel medioevo, ma quasi, perché alla fine dei conti stiamo utilizzando un sintetizzatore wave table, wave morphing, con tutte queste possibilità, come se fosse uno stupido sottrattivo con l'unisono. Alla fine dei conti sta roba potevate farla pure con silent o quasi. Per cui, volendo restare più o meno nel contesto, anche se in questo caso gli andremo a dare un carattere diverso, potremo prendere e aggiungere anche il nostro terzo oscillatore, al quale abbasseremo sensibilmente il volume, perché comunque vogliamo che questo resti più importante, e ce lo andiamo a piazzare, che so, su una quinta, quindi sette semitoni più in alto e due centesimi. Questo proprio per precisione vuole rispettare la distribuzione delle armoniche, magari gli diamo un po' di unison, tre, cinque, sette voci, vai, esageriamo, sette, portiamo questo sotto a cinque. E che cosa ci farò con queste mie nuove, queste sette voci che ho aggiunto di questo? Invece di fargli suonare un lente di sega, gli faccio suonare, beh, qualcos'altro. Che dico, non so, prendo una wave table di fabbrica, qualsiasi più o meno, e utilizzo un LFO, magari un minimo lento, adesso lo rallenterò questo LFO, lo portiamo tipo a una battuta, due battute, esageriamo, utilizzo un LFO per modularmi il comportamento di questa wave table, lo facciamo bipolare, lo mettiamo anche stereo, in maniera importante, in maniera che siano due cose diverse, andiamo, per dire che vogliamo fare, andiamo anche qui e gli diciamo che questo secondo, vogliamo che ci sia un certo grado di table spread, cioè vogliamo che la posizione nella, della, delle, delle, dei nostri, nella, nel, 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 questo parametro sia diversa da una copia all'altra dell'oscillatore. Ora, non ho idea di come suona, però. Ecco, anche questo dobbiamo ricordarci di mandarlo al filtro 1, perché sennò, ovviamente, teniamo che. Ora, vedete che il mio processore comincia a soffrire, appena gli faccio fare di queste cose, però qui avete tante possibilità di aggiungere, come dire, del, questo in un certo senso è proprio la, la, la glassa in cima al suono, perché. E aggiunge un colore diverso che può essere interessante, insomma, se non siete fissati col voler realizzare dei super show simil virtual analog usciti dalla grande ondata di MDMA e di coscienza cosmica degli anni 90, ma siete, insomma, un po' più in contatto con il mondo attuale, col fatto che, dice, volete, la vostra idea di sintesi non è nel passato, ma nel futuro, questo può essere un modo per dare aggiungere, rendere, non dico necessariamente più futuribili, ma un po' più, un po' più, cosa potrei dire, aggiornati, un po' più moderni e diversi i vostri timbri. Bene, credo sia tutto, più o meno, vi ho detto un po' di cose, sfruttando anche alcune delle caratteristiche intrinseche di Vital, appunto, queste possibilità di modulazioni stereofoniche, che penso siano davvero molto preziosi. Bene, grazie per l'attenzione e ci vedremo al prossimo video nel quale vi parlerò del moda rimapping, che, no, ne voglio proprio parlare perché è una cosa che mi piace un sacco e è una miniera di possibilità sonore indescrivibili in questo synth e sarebbe veramente un peccato non parlarne. Bene, grazie per l'attenzione, buone Super Show, buon ritorno agli anni 90 e buona musica. Grazie.